Oggi è la festa delle donne, le ragazze accetteranno dei regali da parte delle mie cagnoline? Andiamo a scoprirlo! Andiamo a scoprirlo? Se gli vuoi regalare i cioccolatini o le mimose alle altre donne? Non piangere, non è una cosa di cui piangere No ma è commossa perché è la festa della donna Auguri alle mie bimbe e andiamo a fare gli auguri a tutte! Si va! Comunque, il giorno della festa della donna aprono fiorai dappertutto Che io non avevo mai visto, improvvisamente E non si sa perché costano tutte 50 euro l'una Però noi le abbiamo comprate oggi And I'm feeling good Ci troviamo nel centro di Rimini ed è qui che faremo il nostro esperimento sociale Che in realtà non è un esperimento, deve funzionare per forza, facciamo regali Ok, partiamo in inglese My dogs have a present for you Ok, you just have to choose one of them Everyone has a box And you choose one of them They have a present for you Like for free? Yeah, of course Because today is the woman's... Come si dice il festa della donna? Woman's day? Woman's day! Party non c'entra un caso She is lit Shirley Mary You choose? I think I will choose Mary Because that's my friend's name Gary, vieni qua Ok, let's see Ok One writing Ok You have to choose Some sentences are romantic Some other a little bit less Ok I choose one Ok Niente è impossibile per una donna Ok I don't know I don't know what it means But you can translate it for me Nothing is impossible for a woman Ok Are you so much brave To go out with my... Come si dice il padrone? Master? Master? What does that mean? She's master Me This is so nice This is so nice Ok You have to choose Ok Don't choose a sentence It's used for another Ok What were their names? Lizza Shirley Oh, I go with Lizza Lizza Oh, lucky That's... Oh It's Lizza But that's for you Thank you That's for you too Oh, thank you so much Thank you very much Thank you Have a nice day Have a lovely day Buona giornata Ciao Va bene Siamo partiti in inglese Cioè... Fortissimo Speriamo prosegua Un po' più facile Ciao Allora, vi facciamo un regalo Per la festa della donna Ciao Ok Allora, dovete scegliere Un cane tra Liz, Mary e Shirley Sì E ognuna di loro Ha un diverso regalo per voi Shirley, dove vai? Vieni qua Voi sospetto che sceglierai Shirley Ovvio Ovvio Shirley Shirley, vieni qua a dare il regalo, dai Sembra un pastore mare in mano Che sta portando il bere Vediamo cos'è Il regalo di Shirley che è molto pesante Vediamo la sorpresa Ah, questo è per la festa della donna Questa cosa che sta facendo Voilà Eeeh, i baci Guardaci Guardaci Ciao Quanto si rimorchia coi cani da 1 a 10? Beh, in 5 minuti si è un po' di fortino Adesso anche in italiano addirittura Quindi Ma sta musica vi disturba ragazzi? A me sì Dovete solamente scegliere i cani tra Mary, Liz e Shirley E ognuna di loro ha una scatolina che contiene un regalino per voi Che vi facciamo Vai Shirley Allora, vediamo cosa ha Shirley per te Vediamo cosa ha Shirley per te Ciao Liz o Mary? Liz Scelto Liz Mary oggi No, lei no No, no No, no Liz vieni qua Grazie È piccolina, è simbolica però Buona festa della donna Ve ne regaliamo anche una Anche i cani Allora, mentre rilego il pacchettino di Mary Mary che è stata scelta meno di tutti finora Vi chiede supporto, 1000 like per Mary Mary chiedi like Mettete 1000 like Allora, i miei cani ti vogliono fare un regalo per la festa della donna Prendiamo una scatolina e ti prendi un regalo Allora, lei si chiama Shirley Mary Liz Scegli quella che ti ispira di più Mary Strano, tutti hanno scelto le altre Allora, Mary ha delle frasi Alcune sono romantiche, alcune leggermente meno Devi pescarne una Ah, non le vuoi romantiche? No Vai, leggi la voce alta La tua festa è l'8 marzo La mia è ogni giorno che passego con te Già con te È di leopardi questa eh Palesemente di leopardi Procediamo a specificare che da parte di Mary Non del padrone Non scherzo Buona festa alla donna Ciao Ciao Liz, Mary e Shirley Che sono donne Vi raccomandano di iscrivervi al canale E attivare la campanella Vero Liz? Mi dai la zampina? Ah, non può Non può Sennò me la darebbe Ragazzi, scusate il disturbo Mica nemmeno regalo per voi per la festa della donna Non ci sia passato il corriere È difficile così Potete scegliere che una a testa Apriamo la scatolina e vi prendete il regalino Io voglio lei Io voglio lei Ok, allora partendo da Mary che ce l'ho già aperta Mary ha delle frasi Alcune sono romantiche altre leggermente meno Ok Devi pescarne una a caso Sai che cavolo pesco E leggere la voce alta Mary ti dice Due punti aperte virgolette La migliore medicina del mondo è il tuo abbraccio Oh Mi è andata bene Lo puoi tenere Buona festa alla donna Grazie Vediamo cosa uscirà di perché Nooo Cioccolatino E buona festa alla donna Grazie Ciao ragazzi Ciao Quindi quanti numeri abbiamo preso? Nero Allora lei è neri Lei è Liz E lei è Shirley Vai scegliene una Per Shirley E' andata bene Cioccolatino Buona festa alla donna Grazie Mi canti i selfie Vai vai puoi farlo Intanto prima ti do la fra Anche no Prima fa il selfie A voce alta vai Dai il tuo numero al mio padrone Nooo la penitenta pescato Scherziamo tranquilla Buona festa alla donna Filo 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 challenge Adesso tu devi entrare Non mi fa paura quando mi nasce Devi entrare nel primo negozio che trovi E regalare Visto che è la festa della donna Tutti i cioccolatini che hai Qualcosa ancora è rimasto Anche le mimose Cioè a ogni commessa devi dare qualcosa Entriamo lentissimi Dai saranno tutte donne Buongiorno Visto che siete tutte donne I cani mi portano un regalo Ho fatto io ok Io prendo questo Ok in questa scatolina c'è Una mini mimosa Grazie Auguri Buona festa della donna Grazie Adesso questa scatolina è squiderata Quindi se volete una mimosa dovete scegliere questa Se volete la sorpresa Cambia Una mimosa non la vuole Meglio bravo Secondo me è meglio I baci per gira che sono tre Che sono per tutte voi Tre Sì Vabbè E la mimosa che la dote I cani Anic Buone I cani I cani I cani I cani I cani Buona festa della donna E i cioccolatini Prendete pure Grazie a tutti Grazie Grazie Ciao Dio Vinde Come si rimarchia facile con voi eh Scegli un cane Mery Litte o Shirley? Litte Quella in mezzo È Litte Buona festa della donna E' piccolina simbolica Ciao Ciao No ma non vogliono i soldi No 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 Noi vi regaliamo la mimosa Non vogliamo soldi No Allora facciamo così Scegliete un cane a testa Da Scegliamo Ogni cane ha una scatolina Che c'è un regalino dentro per voi Io ho Shirley Shirley Ottima scelta Shirley Noi avremmo un bel maschio Da passare Ah si? Razza Eh Razza Muppietti Muppietti Mary Mary ha delle frasi eh Ne abbiamo scelte alcune romantiche Alcune un po' da Come si dice Da Don Giovanni Speriamo capitino quelle romantiche Mary La frase di Mary è Devi leggere la voce alta Senza il sorriso delle donne il mondo sarebbe eternamente buione E visto che stai ridendo Andiamo a bere qualcosa con il mio padrone Ha scritto Mary Ha scritto Mary Non l'ho scritto io eh Mary ma che figure mi fai fare? Mary Ma cosa hai scritto? Cosa hai scritto nei tuoi fogli? In italiano? No 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 Ok allora Ognuno dei miei cani ha una scatolina con un regalo per tutte le donne Cosa hai scritto? Io sono Cosa hai scritto? Che vi darmi un bacio Ah a dog Or a 2e è lo stesso Ahah Tako fun Oh mio Ragazzi voi allora Shirley Certo Facciamo entrambe Shirley Perché le altre due si sanno già Shirley è al top Ah si Sceglie il top ed è anche molto sveglio come cane, prego, buona festa le donne, ciao, ciao, aspetta guarda che abbiamo un'altra concorrente subito, hanno un regalo per te, il cane di cimito centrale, con la scatola centrale, buona festa la donna, è stancante, benissimo per fortuna abbiamo terminato i regali e con quelli anche le figure di M, facciamo di nuovo auguri a tutte le donne, quelle che abbiamo beccato noi stamattina che sono abbastanza e tutte le altre per la festa della donna, buona festa della donna, iscrivetevi al canale e qua la zampa? Mi dai una zampa oggi? Ciao a tutti, grazie, iscrivetevi al canale!